Salve ancora una volta dallo Chef Ruffi, questa volta voglio stupirvi, voglio farvi vedere una ricetta non veloce ma velocissima che anche se non avete tempo di andare al ristorante o cucinare potrete mangiare come avesse cucinato uno dei vostri chef preferiti lo Chef Ruffi anche se vogliamo dire gli ingredienti semplicissimi, glutammato, addensatore, sodio nidrico, io presento su una insalata fresca, citriolo, pomodorini e cipolla rossa semplicissimo, basta prendere gli ingredienti, tirare la linguetta, male linguetta e adagiare il prodotto al centro del piatto con una forchetta fare pressione da nord a sud e la ricetta è pronta io punisco con del buonissimo olio di oliva, sale e pepe ancora una volta dallo Chef Ruffi io vi voglio bene e voglio vedere come sbrodolacchiano le male lingue ok grazie a tutti grazie a tutti